Cataldo Maria Concetta Faccio la banconista, ho quasi 26 anni Niente, poi amici Sì, 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 dai, dai, amici e parenti Da chi hai saputo che c'erano i prodotti? Da mio fratello Tu vorresti fare la prima pomica? Ci vorrei provare Ci vorresti provare Pensi di avere qualità da pomica? Non lo so, non ne ho idea Una comunque alla fine ci prova Senti un tratto del tuo carattere che ti costa più 5? Forza è l'essere molto impulsiva Allora mi dai i propri riusciti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.